La mobilità sostenibile passa sicuramente per l'utilizzo massiccio da parte dei cittadini della bicicletta. A Pescara l'associazione Pescara Bici ha proposto una giornata di riflessione e approfondimento sugli scenari della mobilità ciclistica nell'area metropolitana con interventi di amministratori pubblici e semplici cittadini. L'obiettivo è capire se anche a Pescara si possa andare nel senso di una mobilità di stampo nord europeo. Bici fondamentalmente si occupa di incentivare l'uso della bicicletta nel città, soprattutto negli spostamenti lavoro, negli spostamenti per accedere ai servizi della città, pungolando le amministrazioni a fare quanto è necessario affinché il ciclista pescaresi o dell'area metropolitana si senta più sicuro e abbia più spazio per poter spostarsi in bicicletta e usare la bicicletta come mezzo primario all'interno della città.